Il Centro Commerciale Naturale Stelle del Centro anima le vie cittadine di Sassari con spettacoli, intrattenimenti e musica. La TPI ha inoltre messo a disposizione il bus Oreste, disponibile per accogliere i piccoli passeggeri. Valeria Ganadu. Per qualche giorno le vie, le piazze e lo shopping natalizio del Centro Commerciale Naturale Stelle del Centro di Sassari sono stati animati da musica, teatro di strada, giochi e intrattenimenti per i bambini. Una serie di spettacoli, giochi, musiche e proiezioni grazie a Gioco l'Arte, Festival dei Giochi e delle Arti programmate all'interno delle attività di animazione natalizia del Centro Commerciale Naturale con la direzione tecnica, organizzativa e artistica dell'Associazione Tricirco di Fulvio Adriano Riù e Paola Cannoni. Ieri in Piazza Fiume si sono esibiti in brani della tradizione natalizia i giovanissimi musicisti e codisti delle classi primarie e secondarie della Scuola di San Donato ad indirizzo musicale. Grande successo ha avuto anche il bus Baby Parking Oreste ancora disponibile fino ad oggi per accogliere piccoli passeggeri dalle 16 alle 20 con partenza da Piazza Fiume e con cadenza oraria. Con gli assistenti folletti della Wisp e Babbo Natale sarà possibile viaggiare e giocare sul bus adobato con ghirlande e luci. Gli eventi sono stati coordinati e realizzati dal Centro Commerciale Stelle del Centro in collaborazione con alcuni enti e associazioni cittadine.